Salve a tutti, il mio nome è Daniele Dentice D'Accadia, è D3 e sono il principe di Roma, questo è il mio nome d'arte. Faccio Presting in realtà dal 2009, il mio primo match, quindi da tanti anni ormai, 15 quasi. Ho iniziato a Roma e poi nella mia carriera mi sono spostato un po' in tutto il mondo e ora attualmente vivo negli Stati Uniti. Però insomma porto sempre nel cuore la mia città, perché poi è il posto dove ho iniziato a fare Presting, perché sono nato, ho cresciuto a Roma e però orgogliosamente porto la mia città nel mondo. Ma in realtà da piccolo inizio facendo calcio, da quando ho sei anni, sono sempre stato un grande amante del cinema, dello spettacolo, vedevo ovviamente dello sport, facendo anche calcio per tanti anni e poi quando avevo 11 anni vedo il Presting in TV e da lì decido che, non lo so, mi innamoro, è difficile a volte spiegare il perché ami qualcosa. Mi fecero questa domanda tanti anni fa della S'Got Talent e ho sempre detto che è come il vero amore, cioè tu lo senti, hai le farfalle allo stomaco, sai che è la cosa giusta, ma non sapresti spiegare il motivo. O meglio, ci sono delle ragioni ovviamente per cui ti piace qualcosa, ma è qualcosa di cui non ne puoi fare a meno. È un po' come quando hai l'innamoramento nei primi periodi. Ovviamente il fatto che combina sicuramente lo spettacolo, il fatto di essere comunque un artista, di essere credivo come lo sia nella musica, nel cinema, nell'arte e allo stesso tempo però di essere un atleta, un professionista a livello sportivo. Questa combinazione delle due cose mi ha sempre affascinato, però è una cosa che ho sentito mia. Ricordo che a piccola scuola dicevo sempre voglio diventare lottatore di wrestling e i professori mi dicevano no ma che è, cioè sembrava che dicevi voglio andare sulla luna, un po' una cosa lontanissima dalla nostra cultura. Poi a volte devi essere nel posto giusto, nel momento giusto e hanno aperto un'accademia di solo wrestling, quindi con il ring dentro di 400 metri quadri, dove facevamo solo wrestling e ha aperto quando io avevo 17 anni. Quindi sai, quando sei nel posto giusto, al momento giusto, scrissi al mio primo maestro, che è stato Pierpaolo Pollina e Axel Fiori, quindi i miei due maestri, e loro mi hanno detto guarda iniziamo il mese prossimo, se vuoi venire, mi presentai e da lì iniziò il percorso. Non l'avrei mai detto a distanza di 15 anni e poi sarei arrivato a lottare negli Stati Uniti, a vivere addirittura e a raggiungere certi palcoscenici come essere il primo italiano in WB e nei W, quindi le due federazioni più importanti al mondo. Ovviamente uno ci spera sempre, dico sempre che quando uno inizia un percorso l'ambizione è sempre il massimo. Tu chiedi a un calciatore cosa vuole fare, vuole vincere il mondiale o il pallone d'oro. È normale che l'ambizione è quella, poi dopo per noi era una realtà talmente lontana all'epoca, culturalmente, anche a livello di attrezzature, proprio di materiale. È difficile poterlo fare così tanto che era difficile pensare di poter fare addirittura 15 anni e di arrivare fino ad oggi. Ma in realtà a volte rispondo alla cosa più semplice, che sembra per scontata, non si dà mai per scontata, essere felice con quello che fai, vivere. Perché negli anni ho sempre avuto un po' la pressione, anche a me stesso, non solo degli altri o di chi crede in te. Perché poi sai, quando hai talento, fin da quando ho iniziato, o quando vedono un potenziale in te, tutti dicono, non ho mai, sei fatto per questo, vedrai che andrai avanti. Quindi un po' te lo danno gli altri e un po' lo dai tu a te stesso, perché ti aspetti tanto da te stesso. Quando poi investi tanto, quando lasci la tua città, il tuo paese, la tua famiglia, quindi io mi sono trasferito a 23 anni da solo, dopo che avevo fatto già 3-4 anni di wrestling in Europa, mi trasferisco da solo, senza conoscere nessuno in America. Sai, quindi un po' di pressione la metti, perché sai anche quanto ci hai investito e quanto hai sacrificato. Però non lo so cosa mi aspetto dal futuro, in realtà poi negli anni ho scoperto che questa pressione mi ha portato sì a fare tante cose, ma a non godermele. Cioè tutte le cose che ho fatto, io alla fine già pensavo, ok, cosa c'è dopo? E non mi sono mai goduto in realtà tante cose che ho fatto. Un po' caratterialmente, un po' perché se uno è un perfezionista, tende a non essere mai soddisfatto. Stesso oggi parlavo con mio papà l'altra volta, gli dicevo, alla fine ho fatto 4 cose. Se mio papà dice no, non hai fatto 4 cose, però nella mia testa penso sempre si può sempre fare meglio, si può sempre fare di più. Ecco, negli ultimi anni però poi ho capito anche peraltro a mia figlia, sai un po' i bambini ti aiutano in questo a capire, a godersi più il momento. E quindi adesso in realtà semplicemente voglio godermi quello che faccio, un po' di più di quanto non me lo sono goduto prima, perché ho sempre pensato a dove dovevo essere, a dove dovevo arrivare, a cosa c'era dopo. Invece adesso penso, intanto vi godo quello che faccio, perché mi pagano, viaggio, oggi sono a Bologna, la settimana scorsa ero in Svizzera, quindi alla fine viaggio e mi pagano in due posti, vedo due posti differenti, facendo quello che mi piace. Quindi fondamentalmente uno deve essere felice, deve essere anche grato, delle volte cosa che uno si dimentica molto spesso. Poi il futuro è ovvio, sempre meglio, ma mi dico essere felice, essere contento con quello che ho fatto, sicuramente non avere rimpianti, e cercare di mettersi in gioco anche con tutti, con i più bravi, perché a me piace proprio al di là di dove si arriva a livello di carriera, a me piace proprio mettermi in gioco sul ring, cioè migliorare sia come lottatore ma anche come essere umano, nelle esperienze che fai di vita, perché poi alla fine l'importante è quello, ti ricordi quello che c'è intorno al match, non ti ricordi solo, sì ho raggiunto questo, ho vinto questo titolo, ho fatto questo e quest'altra, ti ricordi cosa c'era al di fuori di quello, e come hai vissuto quella giornata, con chi l'hai condivisa. C'è un grande film che dice happiness is real only when share, che è into the wild, e dice la felicità esiste solo se condivisa, ecco il mondo del wrestling a volte si è molto soli, si viaggia tanto, secondo me è importante la condivisione, e forse la risposta è dove mi vedo fra un po' di anni, spero di continuare a poter condividere la mia passione, quello che faccio, il mio lavoro anche, con delle persone intorno a cui voglio bene, che sento che sono momenti da ricordare, che non sono momenti persi o che ho visto da solo con me stesso. Io e Red ci conosciamo quindi dal 2008, addirittura quando ho iniziato ad allenarmi, quindi molto prima che facessi il mio debutto, venivano spesso a Roma, perché i miei allenatori erano molto conosciuti qui in Italia, quindi veniva spesso a Roma ad allenarsi, quindi lo conosco dall'epoca, poi in realtà io ci ho combattuto insieme in un lontano 2010, e nel 2011 abbiamo addirittura combattuto in coppia in una federazione chiamata European Pro Wrestling, che andò anche in tv su GXT se non sbaglio, su Sky GXT, e lottavamo in coppia contro due tedeschi, e ricordo che in quel match Red si ruppe la spalla, quindi ci accomuna anche questa cosa che ricordo di averlo difeso in un momento di difficoltà dove si ruppe la spalla, e poi da lì in poi siamo sempre rimasti in contatto, non ci siamo mai più incontrati, perché poi mi sono trasferito io, quindi ho cominciato a lottare negli Stati Uniti, e da altra parte a lui ho continuato a viaggiare in altre parti, e non ci siamo mai più incontrati, sempre in contatto, ci sono sempre promessi che ci saremmo rivisti, finché oggi ci rivediamo per la prima volta su Ring, decisamente in un match diverso, perché con molta più esperienza, anche con molto più nome entrambi, e sono veramente molto contento, perché sicuramente non sarà facile in realtà, anzi, penso che verrà fuori, cioè dovrò sudare le famose sette camicie, le proverbiali sette camicie come si dice, però sono molto contento, a me più la cosa è difficile, più mi diverte da un certo punto di vista, strano perché non si è abituato a sentire le persone che parlano la tua lingua tra il pubblico, diverso, però a casa è sempre casa, alla fine tanta gente mi dice, no ma quando vivi all'estero poi negli anni torni e ti abitui, diventa quasi routine venire e andare, in realtà ogni volta che vado da Roma piango, non sono abituato, la sento come se fosse la prima volta, quindi è bello perché sento che, è come se tu regali qualcosa alla tua gente, un momento di felicità, perché poi l'entertainment fondamentalmente è questo, l'intrattenimento è, in quel momento tu non cambi la vita una persona, perché poi i problemi rimangono, però in quell'ora e mezza, due ore di show, tre ore di show, quelle che siano, non pensano ai problemi, magari gli dai anche una speranza ai bambini, fai capire come fu a me quando ero piccolo, fai capire che i sogni possono essere realtà, quindi, e farlo per la propria gente ha sempre un'importanza diversa, secondo me, proprio una connessione, un'alchimia diversa che farlo in qualsiasi altra parte del mondo, non c'è niente da fare, uno può lottare a Vestelmania, può andare dovunque, secondo me lottare a casa vale molto di più, ecco, qualcuno una volta disse vincere uno scudetto a casa vale molto di più che vincere un mondiale, e la penso un po' così.